buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo il numero 56 del nostro trimestrale lobby della scienza della tecnica numero 56 dicembre 2019 ecco cosa potrete trovare in questo numero la cdb te sommergibile caproni il modellismo fa bene a genitori e figli il mirto da cespuglia d'albero elementi cronologici della tecnometria parte terza pianeti extrasolari e radiazione cosmica all'astronomia il nobel 2019 borsa minerali fossili a busta al sizio mostra minerali a grugliasco la pirografia non solo legno meteoritica per tutti i quattro eventi che 50 anni fa cambiarono la meteoritica galileo ferraris fondatore della moderna elettrotecnica scientifica chi sono i makers la rivista può essere acquistata in edicola oppure per abbonamento o in occasione di mostra e mercato in tutta italia buona lettura e vi aspettiamo per il prossimo nostro video grazie 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 grazie